Disponibilità immediata Punto interrogativo Vuoi riceverlo oggi? Sì Ordina entro 4 ore 8 minuti e scegli la destinazione Sera, ovunque Venduto e spedito da Amazon Confezione regalo disponibile Questo articolo può essere consegnato in un punto di ritiro Le tortugas sono delle speciali cartalughe giocappolo Dotate di movimenti realistici Facile da utilizzare Premi il bottone sulla pancia per attivare le pinne Le tortugas possono camminare su terra e nuotare in acqua Whatsapp o conversazione Due punti Ore 14 Timo vai Rosa 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 Colore Grandezza Durà Effetti Di movimento Real Real Rosa 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 Inter-rat-tivo At-tra-tivo Modello Fit Nuota a temperatura alto. Fatto. Prenotato. Sotto questa pioggia si avvenne più fuori la mancanza dell'errore. Nodo. Visualizzato alle ore 14.05. Smeraldo. 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 Il catalogo. Il catalogo prometteva un... prometteva un tortuga. Smeraldo. Leggo. Leggo forma sottile. Mima. Mima una tenera. Tenera di produzione. Con vela speciale nascosta animata. L'animale può venire sposta al gioco fino a una durata massima del... Smeraldo. Perché non chiami? Quando arriva? Dove sei? Nessuna visualizzazione. Foto! Mandami le foto! Appena scendi il patto... E tocca con cura! Tortugalo! No! L'opera sono i bambini. E mandami le foto. Se non posso toccarlo, lascia non guardare. Levar ombra dallo schermo. Non vedrò mai così! Stai mentendo! Non arriva! Impossibile dormire! Immaginare di essere in possesso di qualcosa di realistico e astratto! Ci sei? Visualizzato alle ore 15. T-Mobile. Pare duri. Più degli altri. Pare morti. A velocità massima. Fai il rumore che ci flaccia. Movimento realistico. Quando si scompetta un corpo basso. Gomma. Plastica. Silicomo. P-V-G. Clip della apertura. Che al sole rilassare. In acqua. Danza. Si blocca. Solo dopo. In lungo. Contatto. T-Mobile e T-Rex collezionano tortugas non adatti al male. Al male. Si rovinerebbero. T-Rex. Tu? Dov'è? Sei? Né. 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 Nessuna. Parte. Del. Nessuna parte del. Corpo. È. È fatta di. Seta. Perché non hai chiesto l'aggiunta della seta? Avrei pagato di più per questo accessorio. Qua. 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 Quando arriva? Qua. 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 Quattrone. E. E. E chi va a prendere? La confezione. Ma tu leggi o visualizzi o stop? Visualizzato nessuna risposta. Giù. No. Giocherai solo tu. Tu. Se. Tu. Senza me. No. No. Non c'è molto più tempo. Tu se. Tu senti il tempo. Io no. Come. Come farai? Ah. Far notare il no. No. Nostra tortuga. No. Portarlo al mare. Non farlo. Smetterebbe di muoversi. Ah. Ah. Acqua di piscina. Acqua di piscina. Ah. Ah. Il cloro disinfetta. Ah. Ah. Sprendi per favore. Ah. Al mare. Come stai? T-Mobile ha prenotato un tortuga rosa elettrico che arriverà entro quattro ore. Ci vuole tempo. Due coppi desideranti si sfidano alla caccia del pezzo mancante. Splendono di colpe che generano altre colpe inviandosi messaggi come perite e semi, calchi, pezzi. Prima vai. Oh . A rosa fianco. Aspetta. Francesco, hanno. Nosto. Nodo. Il nostro meccanismo. Eic. Senza feino. Accendo. No, puoi spegnere. Il pacco sesillato prova niente da 10. Quello che conta è che duri e che si blocchi. Quando io lo deciderò è un tripudio di rosa. Lui ti somiglia perché è inutile, manipolabile, dotato di movimenti realistici. Stanno in palma di una mano. Appena guarisci ti squarcisco, ti ferisco. T-Rex. Fosse vero lo avrei. 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 Avrei visto sul. Avrei visto sul. Avrei visto sul. anche io ma non no no ma non ma non ma non ma non lo vedo cortova rosa rosa extreme mi invii il codice forse non esiste l'ultimo dei nostri pezzi che hanno? visualizzato ore 17 e 15 team mobile il pezzo mancante sta arrivando il nostro nodo rosa nuovo ore 17 e 16 team mobile il mio colpo il tuo cuoco si muoverà qui dove tu manchi per arrivare in te tutto il resto incendiato dovrei lasciare tortura cadere romperlo bloccarlo nella sabbia se il pezzo cade cade tutto ore 17 e 18 team mobile se si blocca il meccanismo perdo te e la desiderata specie di cavalli che allevo sempre nei sogni as ne ho trovato un altro uno di colore verde verde speranto come desideri tu è già nella lista ora 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 est ti chiamo dopo visualizzato ore 18 t-rex 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 mi farai fare farà 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 cado laggiù non vedendoti non vedendoti non vedendoti non posso non posso essere sicura della della nostra salvezza dove si può duranno altri giocattoli così così per noi il comico salverà i nostri pezzi difficili a comporsi se resto con te tu te la scampi dimmi quando quando il buone arriva c'era c'era onde azzurre sullo schermo la connessione salta e la temperatura scende di colpo tortuga rosa elettrica non è mai arrivata il polio non esistono tortuga smeraldo non esistono fino a quando non ne prenotiamo una grazie 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 grazie